sul sul accendi ma dov'è Daniel ragazzi è venuto? Daniel ma comunque c'è altro qua che bello ah ma c'era no vabbè non ci credo c'è la casa qui di chi è? ah vabbè sarà di qualcun altro odio orso vabbè ma è una persona non è un orso dai allora chi è che sta cucinando qui? ma dai i bambini corrono spensirati tranquilli da soli dai il nostro camping è qui venite qui oh guardate sta facendo guardando le stelle ma dov'è Daniel? di nuovo facciamolo di nuovo ecco non c'è papi vai alla griglia griglia bollo grigliato buono arriverà molto presto certo tutti tesi per l'orso ma è una persona boh chi ha lui? fame è normale che hanno fame racconta una storia sciocca prendi in braccio che fa? parla ok lui fa il pollo dov'è il tuo fidanzato? vedete ci sono biberon sparsi qua e là oddio non ci credo che bello mira le stelle un vampiro che ha paura degli orsi non si è mai sentito Daniel dov'è? che cos'è? scava dai io voglio stare tipo tutti qui sediti insieme ho fatto il pollo perché si è seduto così? qui sopra il tavolo ah quindi raccogli prendi una porzione insieme eh tutti a maniare dov'è? Giorgia ha distruttato una capsula cosa potrebbe contenere? uh dove sei? nell'inventario ma non vorrei che l'inventario era questo no raga questo è l'inventario tipo ho pagato tutto e ce li ho qua vabbè li metterò nella casa a vacanza ai 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 Daniel non è venuto se lo faccio chiamare da lei Daniel ma come ti permetti? ti invitiamo in vacanza se tu non vieni Daniel ma i bambini perché non lo prendono? ce l'hanno ah che carino guardateli guardate che monello allora Alessio è qui manca Marco Daniel sta dormendo Daniel è un monello io sono eh si può muovere la tenda bene il bambino il bambino non può andare a dormire tipo metti a dormire c'è manda a casa non c'è uffa e se gli metto un letto fuori chi è che dorme? gioia piccolo mettiamo un letto il letto qua vediamo se ci vanno adesso il letto dove piccolo dormi nooo non è un letto per bebe quindi niente devono andare a casa a dormire loro che brutta cosa però vabbè a questo punto è triste vai all'alloggio si sta prendendo la cura di Paolo quindi sono in vacanza buon divertimento ma nooo li ho mandati proprio all'alloggio niente dove sono tutti? e lei? qui certo qui andiamola a fare qui allora niente ragazzi un po' passatempo insieme cioè Daniel ci ha abbandonato l'unica cosa che potremmo fare questa testing che true ok e aumentiamo il livello di abilità musicale a Giorgia se so dove com'è allora perché no? passate tempo insieme sediti insieme ecco l'ammazzate e perché loro non si siedono siediti siediti ok accendi perché insieme ragazzi insieme come una famiglia allora facciamo stat punto set skill level mayor trattino basso sui tar ma accendi oh vai a dormire vediamo che cosa succede quando entri in tenda ecco c'è il sole che succede perché è uscita di nuovo dormi ma stiamo scherzando vero ragazzi questo campeggio è stato un fallimento basta andiamo vai all'alloggio vai all'alloggio e vai all'alloggio via niente abbiamo spesso un sacco di soldi per niente oddio sta morendo lei piano piano comunque quando aumento trocco un bisogno rendi felice ok ai 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 non capisco perché non me lo fa oh mio dio ho capito perché non me lo fa che stupida eccolo daniel che dorme allora dov'è vai dentro vai dentro che brutta cosa quella del vampiro cioè bella e brutta diciamo questa cosa che brucia è brutta uffa comunque dicevamo guardate come si fa quindi dopo aver attivato testing catch true dobbiamo fare stats punto set trattino basso skill skill trattino basso level poi mettiamo maior trattino basso guitar spazio 10 10 dimenticavo il 10 uffa ecco adesso sa suonare la chitarra guardate dove sei dove vai tutti qua dove è la chitarra guardate prendi tiene una jam session canta la canzone suona una canzone e ci sono tutte blues ecco subito la prendi ho perso l'hamburger guardate ora ho perso l'hamburger vedete che brava peccato va bene ragazzi il primo giorno di vacanza per i nostri amici è finito io direi di lasciarvi così mentre lei suona ho perso l'hamburger ho già finito di suonare assai hai suonato cara ma va bene io vi saluto vi mando tanti baci ditemi che cosa posso fare nel prossimo giorno in questo giorno di vacanza e lo farò nella prossima puntata vi 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 tantissimo ragazzi al prossimo video iscrivetevi al canale mettete un po' inizio in su e commentate ciao ragazzi sul sul